e bentornati o benvenuti su abbraccio con fulvio venanzini per il consueto appuntamento settimanale con la polemica puntata numero 67 io sono fulvio venanzini buon ascolto allora salve a tutti oggi si muore di caldo sto qui col mio bel ventilatore puntato perché non se non se respira proprio sti giorni nonostante io abiti in campagna come voi immagino sappiate ormai ciò che il cane qui a fianco che mi sta proprio a vegliare e niente anche oggi avremo un po di cose da dire iniziamo col dire che meglio di sera su stato a vedere un bel concerto perché qui da noi a monte cascone fanno un festival che inizialmente era semplicemente una festa della birra classica festa della birra artigianale si chiama attuscia birra e poco il tempo a diventare un vero e proprio festival diciamo rock di musica indipendente con diciamo band di livello per me attalenante ultimamente però livello si è alzato devo dire che quest'anno per averlo scorso che stavo ian signorino fu una roba che per me fu veramente svuotava la piazza svuotava la piazza cioè brutto non era adatto quel tipo di ambiente poi a me non mi piace proprio però diciamo non vedevo il pubblico molto soddisfatto come diciamo big nome grosso quest'anno io ho partecipato solo due serate su tre la prima serata ho visto i sick tamburo gruppo punk punk classico che punk diciamo californiano anni 90 diciamo quel tipo di punk lì perché sono praticamente i superstiti dei di prozac più gruppo simpatico che io apprezzavo c'erano gaiardi i prozac più poi purtroppo la cantata è morta insomma però c'era questo nuovo progetto che io sinceramente non conoscevo tanto però mi hanno detto guarda sono bravi devo dire che hanno un po rotto le palle devo dire che si bravi a suonare non ho trovato grossi difetti ma una certa monotonia sarà che ormai sono vecchio per quella roba là ma l'ho già sentita un'ora e mezzo quando è durata un'ora e quarto io dopo dieci minuti ho cominciato a guardare al telefono e ascoltavo da un orecchio mi entrava da un orecchio mi usciva non ho sentito più il concerto la voce monocorde pezzi un po tutti uguali più o meno no intanto la fine del punk più o meno è quello però qui non c'era nulla a livello dei canzoni e l'unico pezzo che mi ha dato un brivido un minimo brivido è stato proprio betty tossica nel bis che hanno fatto sto sto momento di nostalgia perché poi i prozac più a loro volta erano stati a monte piascone tanti anni fa ma si parla di circa 20 barra 25 anni fa perché c'era un festival molto figo quello era veramente un festival solo musicale festival rock che si chiamava monte di note che era iniziato ad orte col nome di appunto orte di note e lì era andato avanti qualche anno poi l'andrò a spostare a monte cascone e hanno fatto tipo due tre edizioni tutte notevoli e io ho visto avion travel ci ho visto max gazzè ci ho visto appunto prozac più un concerto insomma che ti rimane nel cuore tolomarton insomma bene edizione dopo addirittura marlene guzzo ma per la mia barra nostra adolescenza fu una bella cosa quest'anno appunto ha rivisto il progetto di alcuni membri dei prozac più ma no ma non mi sono non mi sono piaciuti cioè non fa per me la voce mi annoiava monocorde senza particolari estensioni ma con bel timbro non mi è piaciuto che te lo vedi c'era pure più gente della serata conclusiva in cui ci sarebbe stato appunto c'è stato il gruppo headliner diciamo ovvero lì i hate my village super gruppo italiano perché in italia super gruppi si sono visti pochi sinceramente questo è proprio un super gruppo cioè alberto ferrari adriano di verdeno ovviamente adriano peter bini dei bus spencer blues explosion poi c'è quel batterista dell'after hours e dei calibri 35 che si chiama adesso non mi viene non posso leggere scusate non mi viene il nome però un batterista molto quotato un turnista molto bravo ader ardenoni adernoni non mi ricordo ecco abbiamo appunto adriano viterbini dei bus spencer blues explosion fabbio rondanini dei calibri 35 after hours tutti gruppi insomma notevoli i calibri 35 riviti pure a bologna potenni fa di spalla ai agli afghan wigs c'è niente e poi c'è appunto alberto ferrari che tutti conoscete dei verdena che è quello che il nome più altisonante che attira anche più gente secondo me i fan dei verdena poi c'è al basso hanno detto vabbè ovviamente uno la chitarra rondanini alla batteria viterbini ovviamente la chitarra ferrari voce e chitarra e al basso c'è questo marco fasolo che io non riconoscevo di comaghi e poi invece ho scoperto che era uno dei geni fergento il gruppo psichedelico che ha collaborato molto con i verdena che andavano in tour insieme insomma hanno collaborato proprio e quindi è proprio un super gruppo capito quattro membri di band importanti che si uniscono in un nuovo progetto e questo progetto è certamente una cosa di nicchia perché fanno una specie di alternative rock misto a afro beat misto a psichatelia interessante un impatto live notevole molto tecnici molto precisi non c'è molto spazio per la melodia diciamo no anche se sono le voci de la voce di di ferrari però tutto molto ritmico no tutto molto basato su sul ritmo però bei suoni bel groove c'è una ricerca del groove pazzesca una precisione molto dal vivo è appunto proprio una live band c'è un gruppo che dal vivo si esprime io il disco intero manco l'avevo sentito l'avevo visti solo a propaganda live e mi erano piaciuti dico ma una roba che comunque di nicchia per l'italia infatti lì sera dicevo c'era meno gente che per i per i di tamburo che mi è sembrato il solito panchettone pseudo californiano all'italiana a volte citavano proprio basket case la roba all'anno e quindi sono un bel concerto io non so più e poi non avevo un concerto infatti c'è tutto mi sono messo sotto il bacco sotto il pacco sotto una cassa c'ho ancora l'orecchio che mi rimbomba un po per fortuna la gente vedi le musica non capisce cazzo e quando sono gruppi interessanti c'è meno gente infatti lì sera in questa piazza che comunque si sta freschi perché stiamo in atto proprio sulla rocca di montevascone c'era spazio per muoversi c'era aria se stava bene se stava bene quindi non mi dispiace per loro che magari preferivano tanto il cachet quello era quindi che cazzo non è che c'era il biglietto era l'ingresso gratuito e hanno fatto un po concerto alla fine addirittura sono salito sul palco ironicamente hanno messo come brano d'apertura vattene amore vattene amore di capito minghi e mietta io lì già mi sono già mi sono commosso poi sono partiti loro no proprio contrasto e alla fine dopo un paio di due tre bis parte dell'ultimo bis hanno fatto una gem una specie di gem hanno fatto salire gente sul palco che ballava mentre lo suonavano ferrari non sembrava un tipo da fa queste cose proprio c'è una nuova visione c'è una nuova veste lo vedi no si vede si era lotto il cazzo deve c'è della solita no della solita routine dei verdena lì proprio dire si divertivano in gruppi che si divertono e facendo salire sul palco la gente loro suonavano e questi ballavano è una cosa molto poco italiana molto poco italiana specie una cosa che non ti aspetti da da uno che sembra un po schivo come come alberto ferrari deve dei verdena e alla fine è partito un loop simpatico con delle vocino chiacchiericcio un loop che mi ricordava proprio secondo me l'hanno fatto apposta il loop finale di sergeant pepper dei beatles che lo so appassionati di beatles e secondo me quella cosa è un rimando perché alla fine sergeant pepper dei beatles se tu aspetti vabbè ad oggi col digitale però sul cd dopo la fine dell'ultimo canzone che mi sembra appunto c'è day in the life e poi c'è sergeant pepper reprise e dopo qualche minuto parte sto loop che è inquietante che la prima volta che lo senti quando sei ragazzino specialmente è inquietante è qualcosa di di spettrale di perché poi succede spesso oggi i giovani non lo sanno però quando c'erano queste hidden track tu magari ti addormentavi col cd no finita il disco e a un certo punto buh partiva una roba che tu non conoscevi non ti aspettavi dopo cinque minuti sei minuti su never mind su anti cry superstar de merlin manson su sergeant pepper partivano se tracce nascoste e te piava a corpo era molto inquietante perché poi all'epoca ti addormentavi con disco e quello continuava a girare capito e tu te svegliate ma che cazzo è divertente parentesi se oggi sentite un po' più cicale non vi lamentate cioè vabbè tanto questo è un podcast che pensa più alla sostanza che alla forma l'audio perfetto questi cavoli un po' di cicale oggi abbiamo un po' di cicale vabbè ogni tanto se tacciano ogni tanto ripartono perché come sapete pure il gatto è arrivato ma che è oggi no zoo perché come sapete le cicale stanno accoppiandosi quindi il maschio fa sto rumore per attirare la femmina a scopare vabbè ma chiuso la parentesi dicevo a un certo punto la cosa più trash che è successa a sto concerto degli hate my village che mentre aspettavamo io con un po' di amici sotto il palco arriva un boomer un classico normalone come si dice genera generalone pubblico da sagra no arriva e fa c'era avuto 55 anni massimo forse anche meno forse erano meno non si riportava bene mi fa oh scusa ma sai se mo inizia no dico eh sì guarda tra poco dovrebbe iniziare perché non c'è ma col gruppo spalla diciamo vabbè ma ma che è una cover band dico no come è una cover band cioè ma ti sembra il contesto di una cover band il palco di una cover band cioè vabbè ci sta no vedete un palco ho pure cover band hanno un grosso service e dico no sono dice chi so gli hate my village diceva che è dico un gruppo dice no non li conosco eh guarda dico sarebbe cantante le verdena no chissà non lo so non li conosco eh ma io sono gli 80 io ho fatto io ho messo una mano sulla spalla dico senti amico mio allora non ti posso aiutare mi dispiace cioè se tu non conosci manco i verdena cioè hai un grosso problema c'è una grossa lacuna dice ma che fanno che fanno tipo rock di così una roba tipo rock un po sperimentale afro beat ah beh nato via cioè questi manco conoscono i verdena come cazzo fanno conosci i verdena o cioè a parte che sono un gruppo sono uno dei pochi gruppi sono l'ultimo vero gruppo rock parti maneschi vabbè ma non li considero nemmeno che è emerso in italia negli ultimi 30 anni oggettivamente no ecco 25 25 fanno pure 30 che sono durati insomma sono un gruppo importante come di non conosco l'after hours ormai eh hanno fatto sei setto otto dischi e non poi non conosci verdena se tu segui un minimo il rock eh ma io sono gli 80 ma che vuol dire anni 80 pur io conosco l'uomo sia gli anni 80 anni 70 e loro devono sempre ostentare no ma io conosco roba di altro livello che so massimo litfiba capito ma in italia i luppi i luppi rock sono cinque cazzo non te chiedo riconosce tutta la scena di boston la scena di chicago te chiedo riconosce cinque gruppi rock uno per decennio adesso sto gatto mi fa me fa guarda eh pago sceni giù il filo al ventilatore e quindi questo qua doveva ostentare la sua ignoranza no ma io sono gli 80 dico e beh amico mio mi ha fatto cosa ti posso aiutare se non conosci verdena è un problema tuo ci sta che non conosci l'esma villa ma se io ti dico verdena se tu vai concerti se tu conosci un po' di rock certo ma pure la mia mamma riconosce verdena pure la mia mamma che non è rocchettara se tu lo dici se certo l'esma villa ci sta che non riconosci ma verdena li devi conosce se no te lo avresti io direi io farei finita direi ah ok invece questi proprio manco fingono che gli frega anche se io sì mi godevo il concerto a livello tattile a livello sensoriale the groove però in capoccia purtroppo ci avevo un'altra canzone dei decolors mi entrava in testa sta cazzo canzone dei decolors io mentre sentivo questi intanto io pensavo ai decolors dico ma che cazzo perché c'è sta canzone che come si chiama karma cosmo come si chiama karma buh che è una nuova hit tormentone dei decolors non mi ricordo su quale spot sta mentre in testa io però carina sta melodia eh oh però sta vocetta non vorrei che adesso mi piace una canzone mi piace insomma mi trovo gradevole una canzone di un gruppo indie barra hit pop del merda di quelli che ho sempre ripodiato no tipo gazzelli sti cosi però no beh era troppo suonata bene e cantata bene la suonata a vedere effettivamente decolors ah ok meno male mi sono tranquillizzato la lo accetto che possa apprezzare decolors ci sta perché comunque è un gruppo commerciale paraculo però di gente che sa suonare no che apprezzano funk cioè che c'è un altro background non è la solita roba lagnette romanette e quindi vabbè eh oh meglio decolors che tant'altra merda no la il tormentone dell'anno scorso ibiza era da ammazzarli cioè era una roba quello li ho maledetti ma questa è una canzone paracula simpatica che che va bene come hit leggera come una volta potono essere di una pop ma forse pure meglio oddio se c'è mezzo molto meglio questo che che vespa special ma vabbè special c'erano tipo 18 anni quindi c'è sta perché fondamentalmente poi a me mi piace il pop cioè io sì so rocchettaro mi piacciono un sacco dei generi pure l'hard rock metal però di base c'ho una forte vocazione pop cioè c'è una un forte animo pop perché sono proprio cresciuto con gli aha duranduran nick hayman poi tutte le boy band cioè quello avevo accesso a quello pop è pure il pop italiano ma prima di arrivo al rock io ci ho messo tanto è qui mi piace proprio la melodia e quindi io non faccio distinzioni tra pop e rock che poi pure stupido non faccio distinzioni soprattutto di qualità faccio distinzioni qualità a prescindere dal genere cioè pop è bello meglio che il rock brutto non è che il pop è meno bello o meno importante del rock poi pure lì c'è il pop rock tutto sai i generi musicali si fondono quindi non può dire che una cosa è più rock di un'altra una cosa è più pop dell'altra cioè la musica è bella la musica brutta ecco la varietà l'originalità quello sono i parametri di giudizio no è pop e rock tra l'altro mo mano pure coinvolto dicevo il giudice a un concorso canoro per bambini qui a montesco ne dico sì perché no capito quindi mo dopo l'esperienza da presentatore fa pure l'esperienza da da giudice perché magari domani arriverà x factor che cazzo non so e ho la corrida non lo so e quindi farò il giudice per questo concorso canoro per bambini chiamato le margheritine penso e perché c'è la festa santa margherita bla bla e potrebbe essere divertente poi del resto io un minimo di competenza ce l'ho perché oppure presi pure lezioni di canto è tanti anni fa quando volevo fa per forza del cantante il musicista proprio lì e mi mise a prendere lezioni di canto lirico ma da un fregno vabbè questa è una storia una storia veramente necessiterebbe di una puntata a parte comunque ecco sempre avuto sta passione per canto anche per la tecnica diciamo quindi poveri bambini ne che serve tanto capire non è che stiamo a chissà quale livello del conservatorio sono estonato intonato interpellazione senso il ritmo intonazione appunto sì questi sono i parametri ma approfittiamo del fatto che siamo un argomento pop italiano pop rock italiano canto intonazione e x factor per servire il piatto forte di oggi ovvero morgan un'altra volta dicevi se vi parla delle morgan raga non è colpa mia io ne ho già parlato niente ne parlo ma devo parlarne per forza perché è successa una cosa grossa uno scandalo grosso si sapeva già no di morgan che era a processo per stalking ma era morta lì ne parlavano in pochi no tra le altre cose morgan tra le altre mattate che fa eppure a processo per stalking della sua della sua ex però sai rimaneva lì se se ne parlava poco se ne sapeva poco finché selvaggio lucarelli vedete tocca ringraziare a volte ha fatto ha sganciato sta bomba con un articolo sul fatto quotidiano che poi lei ha ricondiviso sulla sua pagina instagram che ha svelato un verminaio come si dice uno schifo dentro sta storia che va avanti da quattro anni da quando questa angelica schiatti cantatrice che io non conoscevo ex di morgan avrebbe denunciato per esempio che la storia lì morgan per stalking e lo diceva che erano solo poesie io già dico e muovono fuori che dopo quattro anni di indagini ammazza che cazzo è è ancora azionale a processo hanno fatto solo l'udienza preliminare e questa qui è ancora terrorizzata da morgan si sente abbandonata dalle istituzioni e il giudice ha proposto gli ha proposto di accordarsi capito senza un processo di accordarsi col suo stalker che è uno stalker veramente pesante da quello che è venuto fuori non è stalking così perché poi selvaggio lucarelli ha tirato fuori dalle carte processuali proprio dalle indagini che si sono svolte dei messaggi di morgan inquietanti dei whatsapp delle chat allucinanti di questo fuori di testa completamente che non solo insultava lei tormentava addirittura il suo finanziato nuovo finanziato calcutta io non sapevo niente di tutta questa storia non pensavo che stavano a questo livello di degrado morale insulti volgarità le peggio cose sessismo maschilismo cose che abbiamo già visto ma portati all'estremo insulti a calcutta che è il suo nuovo fidanzato e addirittura morgan che in una chat già lì capisci tutto questo c'è una chat del gruppo che si chiama in arte morgan dove c'è lui e altra gente e questo qui lì faceva revenge porn cioè lì condivideva peffa vendicassere questa dei video hard delle foto tenuto non mi ricordo dicendo questa qui una troia guardate questi video famose durisate faccio contenti se caglioli e la gente che diceva guarda morgan questo è il reato non posso divertirmi con una che fa la troia piace fare la troia perché un degrado che ma manco sulle peggio chat del telegram ma manco su 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 sesso roca e pastorizia c'è una persona veramente squalida abietta tutta sta roba è agli atti è è lui che le chat sono vere non si può più negare è no ma si sa fare tre gradi giudizio ma quella roba è vera sta là non solo è voluto fuori un'altra cosa ancora ancora più inquietante del maschilismo degli insulti di questo che dice a calcutta piccolo pezzo di sterco con l'insulta devi fare la fine della tua mamma peggio con le peggio cose confermate da lei dopo che la loro carelli ha fatto uscita st articolo confermate la calcutta che ha detto dici dopo quattro anni non parlo ma delle mie cose private ma stavolta devo dirlo e lascio la la warner perché sapendo tutto questo hanno fatto il contratto a morgan capito e da lì è scoppiato il fin di mondo tutti i musicisti sono diciamo stretti intorno a a questa sangella di caschiatti a calcutta ringraziando calcutta finalmente fuori sta cosa tutti contro morgan giustamente no perché vuoi fare una cosa immonda dicevo la cosa peggiore che da queste indagini queste non so chiacchiere sono cose che hanno scritto sul fatto perché evidentemente le possono pubblicare tutto agli atti ci sono gli screenshot a meno che tu mi dimostri che sono falsi che fatti la lucarelli non credo praticamente morgan avrebbe assoldato due loschi figuri siciliani uno pregiudicato per pedinare la sua ex e calcutta e questi sono andati proprio a bologna a chiappare a cercare di dice me la dovete portare perché mi devo svuotare le pale roba del livello marylin manson del livello johnny depp peggio ancora e questi per fortuna non l'hanno trovati perché erano a roma o sono a roma erano a bologna non mi ricordo cose agghiaccianti inquietanti tutti nello sdegno in generale c'è pure qualcuno che ha come al solito fatto il garantista i processi non si fanno su facebook e le solite stronzate no come fai non fai i processi su facebook che poi non esistono come fai non fai i tribunali popolari quando un personaggio pubblico famoso emergono ste cose la gente chiaramente ne parla come una volta ne parlava al bar adesso ne parla sui social come può impedire questo perché non è un tribunale non è che c'è la pressione mediatica tipo il caso dei mary di mary di carcere allora lì devono trovare il colpevole perché se no perugia capito non va più nessuno a studiare quello è un discorso a parte qui semplicemente gente che dice la propria di fronte a cose indecenti vergognose squallide palesemente indifendibili cioè non è che pure se se andasse a processo no e questa roba è lì i giudici che che aspettano tergiversa non sa da perché non facciamo illazioni però l'avvocatessa avvocata come si dice di lei ha detto alla domanda come si spiega sta lentezza dice ma non crede che sia per il fatto che morgan è famoso no ma non voglio io voglio credere nella giustizia non voglio io secondo me sì palesemente un potente famoso è più coccolato chiusa parentesi pure se ecco se andasse a processo e venisse assolto che cazzo cambia ok assolto e quindi che messaggi spariscono i messaggi di lui che insulta maschilismo sessismo insulti minacce revenge porn tentato sequestro che cazzo fa scompare che cazzo non è frega la sentenza la verità c'è il giudizio il giudizio morale e poi c'è il giudizio diciamo processuale sono due cose a parte che non sempre coincidono e non ci deve interessare perché cosa era pure se venisse assolto ogni adesso non niente rimane che la roba che ha fatto che fanno spariscono allora se tu vedi uno che pesta un fiarello un bambino eh? ah no 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 non lo fermo non intervengo quello quello cioè aspettiamo i tre gradi di giudizio no quello sta a menare è palese c'è il video se c'è un video se c'è un video di un reato non serve aspettare la sentenza per giudicarlo moralmente lo vedi quella è una violenza c'è il video non è che poi il processo la verità giudiziaria processuale annulla quel video lo fa scomparire no no ok non è mai successo perché hanno deciso che non è che non è reato capito? cioè è la verità giudiziaria che si deve adattare alla verità storica alla realtà non viceversa non la realtà che si deve adattare alla verità giudiziaria ecco però chi dice queste cose tutta gente in mala fede no? che devono difendere Morgan come al solito no? però da lì comunque Morgan grazie a toccare ringraziare la Lucarelli perché se non c'era la Lucarelli una ragazza normale già con una persona con uno stalker normale fatica no? abbandonata alla giustizia figurate se contro un ricco potente senza Lucarelli senza il fidanzato famoso Calcutta perché serve no? il maschio che corrobora la sua denuncia che poi ripeto lei non ha detto un cazzo è la Lucarelli che ha sganciato la bomba e lei poi si è a sentire libera di poter dice sì grazie per la solidarietà sono quattro anni che mi sento abbandonata tutti sotto insomma siamo con te tutti cantanti eccetera ma una normale se non c'era fidanzato Calcutta e non c'era Lucarelli se la viande il culo questo è il discorso non bisognerebbe aspettare questi eroi del web del giornalismo che poi ti capito? nessuno sapeva dell'ambiente nessuno sapeva che questo qui si comporta così da vent'anni da sempre io che non sono certo uno un discografico uno leggo e so anni che rimango scioccato che parlo cito la famosa intervista dell'ex de Morgan quella sarda Jessica non mi ricordo come si chiamava con cui lui ha fatto un figlio mi ha fatto un figlio con atta lui ha fatto tre figli o tre donne diverse e quell'intervista a me mi lasciò veramente sconvolto perché sai questa era la sua allieva X Factor affascinata la grande maestro della musica suona pianoforte il maestro di sto cazzo il suo coach poi ci ha fatto un figlio e lei però in televisione quant'era? dieci anni fa già disse che Morgan la trattava male la insultava classiche cose da narcista patologico no? una specie di quello che racconta Ivan Rachel Wood di Marilyn Manson che diceva sei una pecora sarda ignorante non capisce in cazzo non vale niente l'ha abbandonata quando questa ha partorito questo lo dice lei eh lo dice lì c'è il video e l'intervista dice lei vuole la falla epidurale questo l'ho già detto penso e lui ha detto no è una cosa da borghesuccia cioè e lei poraccia dice eh che lei è strascema a seguirle ma quella era vittima ormai di questo innamorata quello che ti pare diventata affettiva si trova con figlio di questo e dice che pressioni psicologiche quello che ti pare ormai sono relazioni tossiche sono state già studiate eh e questo non ha fatto l'epidurale già che doveva partorì lei non Morgan questo gli ha impedito perché è una cosa da borghesucci lui che come se lui fosse poi capito un proletario proprio una persona rivoltante e già lì disse mamma mia quindi già da dieci anni si sapeva chi era Morgan con le donne no con la gente in giro poi ultimamente fuori di capoccia insulta frocio di merda al concerto ne ha fatti di ogni cioè lui va avanti solo a polemiche insulti e continua ancora a proteggerlo intoccabile perché? perché mo è amico pure da Meloni perché tutti iniziano a sinistra no? gli artisti cantanti cantatori poi quando o non fanno successo o a sinistra rimane un affanculo o si buttano a destra libero pensiero e cose varie tipo povia eppure Morgan alla fine a dove lo passa a destra l'amico dei sgarbi o forse era già a mezzo fascio amico dei sgarbi amico dei giorgia che vuole dare un incarico che cazzo ve la dai e c'è pure un programma in Rai e ora dice la Rai se la smettisce quindi la Rai si è fatta se è tirata indietro la Warner l'ha mollato subito hanno fatto un comunicato dopo il posto di Calcutta dicendo no no spesso questo ci rovina l'immagine prima non lo sapevano che cazzo era Morgan improvvisamente quando Calcutta ha fatto le ha smerdati ah no no non possiamo più collaborare con Morgan e l'hanno sfanculato pure loro capito? ma questa non è la fantomatica cancel culture questo è semplicemente lo show business il music business che dove come appunto a Hollywood finchè tu porti grossi guadagni loro fanno fitte le niente Morgan non porta più manco guadagni do vaffa casino cioè Montesco ne fece schifo per di no non c'ha grossi ascolti non vende dischi è solo ammanicato è solo un personaggio tv a quel punto quando il danno di immagini è troppo grosso la merda viene fuori lo smollano non perché c'è la cancel culture semplicemente quelli sanno sanno già chi sono i personaggi a rischio quando come nel caso Mary in mezzo la casa discografica che era l'uomo vista che cazzo era pure quello è uguale infatti ho visto un po' d'analogie sia con lui che con il caso Johnny Depp tutti sapevano come cazzo si comporta Mary in mezzo da 30 anni alla fine vengono fuori queste accuse pesantissime svariate donne e la casa discografica per evitare dando l'immagine lo smolla gli hanno cancellato un po' dei dati ovviamente perché la gente protesta adesso lui sarebbe stato ospite al Taranto Jazz Festival e la gente cominciava a protestare pure i vari collettivi femministi insomma e allora lì c'è stato un momento veramente un altro momento grottesco il Taranto Jazz Festival c'è tutto pubblica un post io gli direi ma corca miseria ma pagatelo un social media manager un esperto di comunicazione un po' meno imbranato hanno fatto un po' un post imbarazzante su Instagram e su Facebook vabbè dove dicono visto quello che è emerso visto il clima brutto sia per per evitare un danno di immagine e insomma e per il problema di valori non condivisi ci troviamo costretti a cancellare la partecipazione di Morgan c'è una roba cerchio bottistica patetica ridicola di gente che cerca di dare sentono ma io dico porca miseria è chiaro che tu lo stai a cacciare a Morgan non perché te ne frega qualcosa della violenza sulle donne quindi pensano la gente pensa ai soldi allo sbigliettamento è chiaro che tu pensi al danno di immagine ma non lo devi scrivere nel post cazzo nel post devi dare una pervenza di moralità devi scrivere siccome siamo molto sensibili sul tema della violenza sulle donne non condividiamo quei valori bla 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 ci sentiamo di cancellare no per evitare il danno di immagine quello lo devi pensare non lo devi di scialagotto e lì pure sotto l'insulti pure la lucare l'intervenuta ma come cazzo si fa a fare queste figure di merda ma che ci vuole a sembrare no perché pure lì non c'hanno coraggio a andare contro Morgan fino a un certo punto era della serie non vogliamo scontentare nessuno c'è un brutto clima i valori però pure il danno di immagine me lo stai a dire che tu pensi solo all'immagine che c'è un brutto clima causato dall'articolo da lucarelli come se il problema fosse che la notizia è venuta fuori e ora c'è un brutto clima e ora noi non sappiamo come fa ma pensalo non lo dire niente ne la panno fa ecco poi perché dicevo ci ho visto molte analogie a parte questo narcismo patologico palese questa voglia di vendetta cioè questo non si rendeva manco forse conto forse anche per la droga non lo so talmente dell'organizzazione di potenza questo si metteva nella chat nella chat di gruppa pubblicava fare revenge porn ma manco i ragazzini e questi gli spiegavano che guarda che è reato ah perché lui non lo sa a me non mi sembra così scemo Morgan ecco mi sembra molto paraculo e dicevo ci ho visto una certa affinità col caso Johnny Depp per svariati motivi perché tra gli screenshot che questo mannava insulti minacce a Calcutta lei diceva per esempio adesso andrei al processo e io la distruggerò io farò un culo così la trito io la distruggerò legalmente e mediaticamente capito e quello mi ha fatto proprio ripensare a Johnny Depp che prometteva alla sua ex Amber Heard una global humiliation uguale uguale stesso tipo di persona tra l'altro sono amico amico in comune Marilyn Manson di cui di cui Morgan in un podcast disse smascellando che Marilyn Manson è un bravo ragazzo se tu dici che Marilyn Manson è un bravo ragazzo già quello è un grossissimo red flag ecco e ecco e anche appunto l'opera di gaslighting di delegittimazione che è partita immediatamente da parte di Morgan in modo ridicolo con dei video patetici dove lui fa la vittima i suoi sodali chiaramente chi potrebbe essere Sgarbi no perché lui è un poeta sì 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 corona subito a difendere beh corona voglio dire pezzi da 90 corona col suo cazzo di sito Dillinger News dove lui ha cominciato subito a fare una propaganda anti chiaramente Lucarelli pro Morgan e anti Angelica schiatti dicendo che questa qui è la solita cosa Warren Amberard è una pazza è una drogata è una gold digger è una star fucker questo l'ha scritto anche Morgan è il solito meccanismo di delegittimazione della vittima è di quelli che stanno intorno e che la stanno aiutando hanno cominciato a pubblicare le foto per esempio della Lucarelli che stava con Morgan all'epoca e si baciavano per dire ah vedi questa si baciava al mostro ma che cazzo c'entra allora se una sta con un marito violento poi lo lascia non lo può denunciare perché se l'ha scopato ma che cazzo dite vabbè ma corona mi sembra più intelligente così ma non so se sia veramente così così intelligente boh è palesemente in mala fede no però appunto dicevo questa è la solita strategia chiamata d'arvo deny attack reverse victim and offender è quello eh è quello stanno a fare proprio quello Morgan sta a dire che lui è la vittima lei è una stronza col digger è lei che l'ha è lei che l'ha manipolato lui era innamorato lei l'ha gustato poi lei si mette sempre con i cantanti che cazzo che te ne frega a te cioè che è reale mette se con i cantanti per dire che lei è una specie di gruppi no una cosa squallidissimo squallidissimo e addirittura è voluto fuori che in questi deliri lui poi Morgan ha denunciato la Lucarelli perché dice mi ha danneggiato perché io non sono stato accusato di revenge porn sì ho capito amico mio ma i messaggi parlano chiaro dici guarda questa troia quant'è troia e ha fatto una storia dove diceva appunto questo che denunciava Lucarelli e lo sfondo era la via de casa desta Angelica la sua ex e questa ha condiviso dicendo guardate io abito lì questa è la mia casa è la via della casa mia la sua 200 maria è casa mia quindi io è il posto dove io non posso tornare perché ho paura cioè questa questo ha fatto una storia che pare palesemente una minaccia quando la capisci perché inizialmente non capisci no? perché è ancora la tua stavia così anonima angosciante quindi lui ha fatto quello poi ha fatto ha messo dei dei meme dove lui è più bello di Calcutta c'è tutta una roba che conferma il fatto che lui è rosica e ossessionato da lei perché poi posso pure immaginare che è un egocentrico del genere sentendosi addirittura superato lasciato per Calcutta che lui considera un cantatore serie B pensa quanto poi ha ferito il suo ego no? e lo sta cercando di umiliare che è brutto mentre so figo cioè è una cosa cringe poi fa pubblicato ultimamente sta reagire in modo veramente scomposto dei papiri scrive deliranti io sono là adesso si firma Morgangel per cui si considera un angelo in guerra contro i cattivi retorica canonista trumpista tutti ci sono con me questi sono i cattivi le persone buone come gli artisti come me stiano dalla parte mia quella roba ha pubblicato pure una canzone che pare manco Domenico Bini dove elenca tutti i cattivi ci sono tutti noi faranno una class action contro lui proprio brutta una cosa ridicola fatta in casa con una basetta una roba dice questo è proprio partito però partito partito intanto cercano di di legittimare lei capito? un po' tutta sta retorica dell'artista lui quando uno parla sempre di artista artista non artisti siamo così siamo puri è una cosa è fumo gettato negli occhi tutte cazzate retoriche è come la spiritualità io ho gente che parla sempre d'arte che sia tu definisci artista tutta gente che te vuole inculare che se nasconde dietro questa coltre fumosa fumogena dell'arte la spiritualità tutte cazzate questo grande artista non fa un cazzo di artistico da ventici e passa anni l'ultima cosa artistica ha fatto questa era la canzone con buco ma lui l'ha solo rovinata era buco che ha fatto la canzone lui l'ha solo rovinata e quella la chiama forma d'arte per il resto che cazzo è? come ho già detto è lo sgarbi del piano bar no? che cazzo fa? cioè più fa il matto più se ha il programma genio la gente finisce per crederci ma questo non pubblica niente parla di musica farà pure cazzate per carità ha le sue competenze brava suona al basso l'abbiamo detto mille volte però basta ci sono miliardi di polistrumentisti no? questi famosi blu vertigo sono stati rivalutati troppo non rivalutati sono stati ingigantiti secondo me cioè nell'anni 90 a parte c'erano un sacco di gruppi italiani che spaccavano cioè erano il blu vertigo mi ricordo erano uno dei tanti gruppi interessanti derivativi però interessanti per carità ma sto mito del blu vertigo che hanno fatto capolavori che so come i Depeche Mode che so come i Japan è una cazzata costruita a posteriori proprio per compensare a questo calo vertiginoso De Morgan allora più Morgan diventava una macchietta più toccatica però il blu vertigo era una cosa fantastica ma ripeto era una creazione a posteriori perché nell'anni 90 nessuno diceva che il blu vertigo era i numeri uno nessuno lo diceva erano uno dei tanti gruppi adesso pare che hanno fatto la trilogia bernese di Bowie no e poi non era solo lui lì c'era pure Andy era un gruppo poi da solo ha fatto un disco carino un bel singolo lo trovo e poi il trash e poi è diventato quello che è diventato lo sgarbi della musica ma che pure se era l'Urid che era un pezzo di merda pure l'Urid che me ne fotti cioè non è che te da un attenuante se sei un grande artista non me ne frega un cazzo allora adesso Josh Klinghoffer super polistrumentista pure produttore cantante cantatore quattro progetti adesso suona Quaper Jam suonato con le docce di Peppers poi Quaper Jam suona chitarre tastiere e pure la batteria a volte la suona anche bene ha sostituito anche Matt Cameron adesso ha ammazzato uno omicidio colposo in macchina che facciamo siccome è bravo sono avanti strumenti 4 o 5 strumenti è assolto no quello sta guardando il telefono ammazzato un poraccio però verrà che sicuramente la scamperà come l'ha scampata pure Baldwin perché i ricchi si salvano hanno i soldi hanno gli avvocati hanno i cavilli ecco il problema vabbè comunque Morgan continua la sua opera di propaganda ha cancellato tutti i posti di Instagram e sta dicendo un giorno alla volta pubblicherò una verità vi farò entrare nella realtà di questa storia perché qui è raccontata come mi pare a voi insomma vediamo nuovi sviluppi chiudiamo la parentesi Morgan lunga è stata passiamo sempre la cronaca proprio cronaca nera pesante perché non sono riusciti a far riaprire il processo Linda e Rosa Bazzi secondo me è un fallimento io sono ancora convinto che loro siano innocenti vabbè che te devo dire evidentemente non c'erano le prove sufficienti non sono riuscito a convince di riaprire questo caso per me le prove ce stanno troppe però è andata così che poi la cosa che trovo comica in tutto ciò vabbè chiaramente cose gravissime queste ne Morgan hanno tentato rapimento sequestro e viene condannato giustamente ma pochi sanno che Jimmy Page il grande Jimmy Page fece letteralmente fece veramente rapire una ragazzina una ragazza una ragazzina perché c'era 13 anni negli anni 70 una gruppi che tipo non gli ce voleva sta Maddox Maddox come cazzo si chiama comunque trovare tutto su su wikipedia tutta roba tutta ufficiale era una baby baby group già già stiamo a parlare di cose gravissime e questo mandò il suo tour manager non mi ricordo bodyguard mi sembra il tour manager a letteralmente rapila e portaglila capito lui l'ha fatto veramente e sta scritto su wikipedia lo sanno tutti e se la portò se la trombò e poi la tennero chiusa in albergo ai meravigliosi anni 70 la tennero chiusa in albergo perché questa qui doveva non poteva uscire perché se no era una minorenne nessuno doveva vederla e lui poi c'è avuto una storia con questa che c'è a 13 anni lui c'era tipo boh 27 26 non lo so cose agghiaccianti quella di Jimmy Page però Jimmy Page ha scritto cashmere e quindi si perdona si fa fintare nulla è quella piccola macchietta nel suo curriculum più c'hai canzoni fantastiche più c'è una carriera e più ti viene ti viene abbonato quella piccola cosa in Morgan anche una cosa minima visto che ormai la cazzola non ce l'ha più non gli viene perdonata giustamente e quella lì poi se va a vedere c'è avuto storie con da baby groupie con Bowie altro dio intoccabile con Jagger e un'amica sua addirittura che si chiama si chiama non mi ricordo come si chiama un'altra amica sua addirittura c'ebbe una relazione sessuale con Iggy Pop a 12 anni cazzo cioè questi sono proprio pedofili chiamalo come te pare febofilia qui per me è pedofilia e Iggy Pop lo disse in una canzone di cui non mi ricordo il titolo che diceva I slept with non mi ricordo come si chiama when she was 12 cioè di che stiamo a parlare e anche sul discorso storia ambientata nella strada dove abita questa c'è qualcuno che è venuta obiettare eh ma quella è anche la strada dove abita Morgan quindi ha diritto c'è un piccolo problema lui ha affittato casa lì per stare vicino a lei per solchizzarla meglio questa è un'altra cosa che è emersa dagli atti che ha pubblicato la Lucarelli sul fatto tutti l'hanno riportata cioè questo ha preso casa nel suo paese in provincia di Milano non mi ricordo come cazzo si chiama tra tutte tutte le città d'Italia ha dovuto proprio andare lì a affittare un appartamento cioè qui siamo proprio nel mamma mia nel thriller capito e qui tu mi hai giustificato è ancora più inquietante non è che è passato lì ha fatto una foto per far capire no lui ha proprio preso casa cioè lui sta proprio là per stare vicino a lei questa è un'altra cosa che vedi un ricco può fare un povero magari non può farlo gli tocca andare ogni volta una lappia al pullman con la macchina il ricco viene a casa lei ha sempre la sua base per tormentare la propria ex che lui invece dice che è lei che tormenta lui capito è perché poi la cosa bella che vanno fuori che questa è forse la cosa più grottesca fa anche pena la compagna con cui Morgan ha fatto sta figlia che subito poi ha portato sul palco a concerto a Desio per far vedere che è padre amorevole solita cosa pure quella no per ripulire l'immagine lo usano sempre i bambini ha fatto una lettera che sembra scritta da Morgan perché c'è tutto un delirio Morgan quanto è buono quanto è bello quanto è bravo lui cerca il bello in tutte le cose che cazzo ha scritto lui potrebbe insegnare al mondo la tenerezza è femminile senza essere gay è lei questa qui praticamente era incinta di Morgan Morgan che aveva avuto precedentemente una relazione con St'Angelica dice che lei poi lo ha risedotto lui Porello è stato sedotto Porello c'era 50 anni 45 anni quant'anni c'è di più e lei lo ha sedotto e è abbandonato c'è questa poraccia io non so che sindrome però sembra sindrome di Stoccol ma cornificata dal compagno mentre era incinta invece dà la colpa a lui dà la colpa a lei che lo ha sedotto Porello ecco lì capisce tutto insomma lei ha fatto questo articolo in difesa di lui che ha condiviso anche le droniche ecco quindi come sempre è questa qui una rovina famiglie questa si scopa le rockstar e lui dice che lei usa lui per farsi pubblicità ma io vorrei dire che a parte che se volesse c'è il finanziato Calcutta che è leggermente più influente di te oggi c'ha 3 milioni di follower c'ha un botto l'ascolti fa l'arena di Verona fa un sacco di Morgan ti ripeto c'ha 70 mila ascolti su Spotify musicamente non conta cazzo a quel punto potrebbe farse basta Calcutta no perché prima stava pure con Motta è una starfaga l'ha detto quindi secondo lei lui sfruttava lui poi l'ha lasciato che cazzo vuoi pure se fosse che problema c'è io mi sono messa con te perché volevo un tornaconto d'immagine ok poi dico basta no io sto chizzo no non funziona così cioè è un reato aspettiamo che che la magistratura faccia qualcosa questa voraccia che deve fare di più mi sembra mi sembra inquietante questo quadro poi c'era già il codice rosso in tutto ciò poi la Parietti ha fatto il post forse più ridicolo ha fatto un post ha messo un po' di foto di gente di una festa e in una foto in un carosello come si dice carrellata le foto su Instagram in una c'era lei e sgarbi e Morgan sotto la gente dice ma perché pubblichi Morgan proprio oggi ma non ti vergogna ma e lei si è difesa dicendo no beh ma perché un amico io voglio bene proprio oggi devo sostenerlo dimostrare il suo affetto perché si disapprovo quello che ha fatto ma un amico è per sempre come un parente ma che cazzo stai a dire ma che è mafia ma che è massoneria ma che vuol dire quindi se tu hai un parente un amico che è un pedofilo che ha stuprato dieci persone beh però io voglio bene che vuol fare che vuol fare non invitare a Natale un amico è per sempre cioè quella è una cosa mafiosa non è amicizia non è che mi aspettavo chissà che da 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 il buon corona invece che pur infanga pure lui col suo sito di informazione l'accusatrice la vittima e le lucarelli eccetera proprio lui in un certo punto dice sì sì ma io ci ho parlato con Morgan in privato e gli ho detto che stava esagerando che era ossessionato quindi lui stesso conferma che Morgan era ossessionato da lei capito e praticamente la stocchizzava quindi si è si è si è fatta un autogol capito ci ha messo a dire che è tutto un complotto che è questa qui che manipola e lucarelli che sciacalla e quindi Morgan è una vittima e poi poi dici che tu gli ha detto sta attento perché sei ossessionato o stai esagerando quindi sei tu che sapendo bene quello che faceva Morgan minimizzi e minimizzai perché è amico tuo perché si sa gli uomini sono un po' così gli artisti c'erano i demoni mamma mia raga sta cosa sta a venire a fare proprio il peggio manca solo Cruciani anche Di Norfi l'ha difeso ovviamente manca solo Cruciani e chi manca Bo Gasparri poi per la gioia del cittadino comune che ha votato Giorgia hanno depenalizzato l'abuso d'ufficio ma mi sembra giusto per la gioia del cittadino che vedrà sicuramente riconosciuto i suoi diritti fantastico abuso d'ufficio che sono reati ancora con l'abuso d'ufficio ma per carità depenalizzato un altro colpo di spugna a favore dei corrotti dei potenti e a discapito del cittadino sfigato onesto comune ma passiamo alla politica quella seria quella americana perché insomma sapete che ci sono molte elezioni abbiamo parlato settimana scorsa del confronto tra Biden e Trump ma adesso purtroppo c'è stato un evento epocale vedi non ho parlato alla fine ma cazzo Morgan era più importante c'è stato solo un piccolo attentato a Trump ieri in Pennsylvania Trump stava facendo il suo comizio con tutto il suo rally insomma con i suoi fanatici col cappellino rosso e mentre parlava è partito un colpo che non l'ha colpito però gli ha ferito un orecchio lui si è abbassato subito la sicurezza i servizi serieti si sono avventati su di lui lui si è alzato su col pugno alzato ha cominciato a gridare fight 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 ce la faremo e subito la gente hanno pensato dicevo questo è un complotto danno è possibile si è tutto studiato per fargli fare la vittima per no con sta foto iconica ora vedrai che lui martire come Kennedy vincerà con sta attentato potrà fare la vittima e vincere le elezioni io da Trump mi aspetto di tutto è premesso perché uno che che avalla il quanonismo e appoggia avalla e legittima la il coso al congresso l'invasione l'attentato al parlamento americano quello che è venuto qualche anno fa lì dici come cazzo pure lì come cazzo è possibile questi riescono a entrare al parlamento e fa che cazzo gli pare pure lì dici boh pure lì quello sembra un complotto qui quindi io me l'aspetto da Trump però è troppo assurda sta cosa è stata dinamica no il complotto non sta in piedi non sta in piedi perché se devi pagare uno fate fare un finto attentato che ti ferisce solo in orecchio ma che cazzo è ma che ma manco un cioè nessun tiratore riesce a ferirte nell'orecchio senza ammazzate cioè più difficile che ammazzate semplicemente questo qui non c'è riuscito perché era è venuto fuori che era un ventenne sfigato bullizzato di destra cioè che in realtà è registrato come votante repubblicano ma poi dice che è democratico e sodiava i repubblicani ha fatto pure un video c'è una faccia da matto sembra uscito da un film dei nerd e questo praticamente però fanatico delle armi ovviamente pure Trump sosteneva le armi ecco qua che succede poi gli sparano a lui e questa era una specie di non dico incel però era disadattato bullizzato invece di andare a sparare nelle scuole come fanno spesso questi o a sparare le donne e andare a sparare a Trump dicevo almeno un potente no? Nesto attentato Trump gli hanno scorticato un orecchio nel frattempo però c'è stato un ferito grave e una è morta e di quelle linee frega un cazzo nessuno soprattutto che accoglie Trump ma la cosa veramente grottesca io abuso questo aggettivo ma non so come altro definirlo è che poi si sono visti dei video in cui questo attentatore stava comodamente arrampicandosi su un tetto a cento metri dal palco di Trump e la gente lo indicava oh c'è uno si sta arrampicando sul tetto chi è quello? signor agente guardi no tranquillo magari pensavano che ne so va a prendere il sole cioè tu vedi uno arrampicato sul tetto i servizi non lo ammazzano subito allora gli dici ma o è un complotto o sono dementi ma io ne sai pensare che sono dementi c'è l'11 settembre l'assalto al Parlamento al congresso ecco e questi non riescono a sventare un cazzo forse non ci riescono veramente forse è tutto come diciamo con un amico mio tutta propaganda che ci hanno fatto crescere con questa idea che loro sono invincibili grande sicurezza grande intelligenza e poi invece non riescono a sventare un cazzo cioè questo si poteva fermare subito invece no cioè già che i servizi segreti dovrebbero per lustrar bonifica tutto prima di far fare l'intervento a Trump invece questo tranquillo si arrampica questo fucile si apposta la gente lo vede poi dopo un po' lo vedono pure i servizi segreti meglio tardi che mai ma non è che lo ammazzano subito gli sparano aspettano che lui spari e poi lo ammazzano allora è normale che uno gli esorge il dubbio dice ma questo è un complotto è troppo assurdo però allo stesso tempo è più probabile che questo abbia sparato male e l'abbia mancato piuttosto che era uno che è messo lì proprio per sparare a Trump senza ammazzarlo ferendolo all'orecchio cioè io devo sparare un ventenne con fucile di merda che cazzo era devo sparare a Trump e chiapparlo solo in un orecchio senza fargli troppo male ma che è non sta in piedi quindi è semplicemente una cosa grottesca però ti ripeto c'è il video della gente che indica sto tizio che si arrampica no? mentre Trump parla e gli agenti che non gli fanno un cazzo che lo sottovalutano io questo non me lo spiego perché pure la sagra del luccio del lattarino qui c'è più sicurezza vedono uno che si arrampica su un cazzo e dice fermati che cazzo è quello specie in America dove tutti sono armati in Pennsylvania sono armati no gli hanno fatto sparare boh e mo Trump questa cosa cioè gioca fight 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 chi? fight un deficiente bullizzato la fanno passare come una cosa attacco dei democratici Salvini ha detto beh qui però voglio spessare una lancia a favore Salvini perché Salvini vabbè sempre le cagule di Trump ha detto dice questa cosa chiaramente strumentalizzando dicendo spero che questo attentato faccia aprire la mente a quelli che inneggiavano seminavano odio contro le destre contro i fascisti contro i razzisti contro e la gente lì ha cominciato a dire eh vero Salvini ha fatto coming out ha detto che lui è a favore dei razzisti e che non bisogna seminare odio contro i fascisti e gli è uscita male come sempre i suoi elenchi poi lui a volte proprio non si regola non si regola più con i elenchi ma lui non intendeva dire sì lo so che è uscita così sembra che lui faccia un endorsement ai fascisti dicendo non bisogna condannare il fascismo e il razzismo ma lui intendeva dire ce l'avete con le destre dicendo che sono fascisti i razzisti mentre le destre sono semplicemente democratiche e conservatrici lui questo intendeva ecco perché io spesso una lancia appena volta in favore di Salvini per essere no per l'estate intellettuale attaccarlo su quello è un po' una cosa in mala fede no perché è chiaro quello che lui intendeva lui è faragulo lui non direbbe mai noi siamo fascisti e razzisti lui dice noi siamo buoni e democratici da quando ha cambiato registro da quando non dice più le parolacce da quando è diventato nazionalista non più nordista e secessionista lui prima le parolacce era linguaggio da bar cazzo vaffanculo stronzo le peggio cose adesso buono bacioni ecco quindi adesso lui non direbbe mai una roba del genere se facendo gli elenchi si è espresso male e sembra che dica quello ma non intendeva certo quello che poi sappiamo che però è la verità quella cioè queste destre sono fasciste e razziste perché Trump ha sempre utilizzato quel linguaggio là ecco purtroppo anche l'antirazzismo anche l'inclusività rispetto che non so il relativismo culturale crea dei mostri crea delle sentenze assurde perché ha solletto che uno dei genitori rom che picchiavano un bambino una bambina mi ricordo una ragazzina per cui erano stati denunciati sono stati assolti perché dice nella loro cultura nei campi rom c'è violenza è la loro cultura quindi noi possiamo condannare ma questa è una stronzata cioè così tu per sembrare tollerante tu stai passando sopra i diritti umani di un essere umano di un essere vivente di un bambino in nome del rispetto delle tradizioni ebbè loro lo so così che cazzo vuol dire loro so così che cazzo vuol dire quello che ha denunciato i genitori è il loro sistema educativo lì c'è la violenza è normale che è normale allora entro nel campo rom e non c'ho più diritti umani perché meno la lì è normale no è una cazzata ecco perché dico vedi la legge il sistema giudiziario penale legale non è infallibile è pieno di tare dei bias dei stronzati questa pure che cazzo sentenza è dice no ma fa leggere bene la sentenza i giornali li portano no non è la prima volta perché pure all'estero succedono queste cose che la moglie denuncia il marito in nome magari la moglie pakistana comunque islamica denuncia il marito per violenze in nome della tolleranza del rispetto delle altre culture tu non rispetti i diritti della donna che deve essere menata e magari assolverò il marito perché lui non ha menata perché perché l'odiava perché è violento come questi in una sentenza si legge dice non picchiano i bambini perché sono violenti e sono cattivi no perché per loro quello è normale ma non è normale cazzo anche quelli vanno a picchiare il bambino la donna quella più debole casualmente questa cultura prevede la violenza verso il più debole oh che cultura è è la sovraffazione del più forte sul più debole che c'è dappertutto e tu la devi contenere la devi la devi punire almeno in Italia va bene siamo arrivati alla fine di questa 67esima puntata di abbraccio con Fulio Venanzini io vi ringrazio per l'attenzione vi invito come sempre a seguire il podcast su Spotify su YouTube a seguirmi sui social su Instagram su Facebook dove vi pare ah se ci fosse qualche marchigiano l'ascolto vi dico che per esempio sabato 20 luglio mi esibirò a Filottrano provincia di Ancona ristorante sotto sopra per una serata a due insieme al buon Giovanni Spadoni quindi se qualcuno c'è mi fa piacere grazie a martedì prossimo ciao